Ma anche intanto ce lo so, quando uno compro un pè di scala, tra fratelli, si guarda, si è affittiva. Ma secondo me è normale? Ma è vero Stefano? E' un po' chiesa. Sì, è così sicuro. Dai Stefano! Dai Ste! Dai Tim! Quella è la Crash G, ma non è la Crash G! Non c'è nessun video. Non c'è nessun video. Non c'è nessun video. Vai Ste! Vai Ste! Vai Ste! Vai Ste! Stai relax! C'è la manchetta e la iaccia. Ci deve essere brutti. Vai vai calcio calcio! Vai vai vai! Calcio calcio! Sulla barca! Calcio calcio! Vai 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 vai! Oe! 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 Vai ginocchia! Oe! 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 Bravo! Bravo! Oe! Vai Calangolo! Vai Calangolo! Vai Calangolo! Vai Stefano! Vai! Subito! Calcio! Oe! 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 Bravo! Grazie! Vai! Vai Stefano! Oe! 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 Ah! Oe! 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 Vai! Oe! Vai! Oe! 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 … Grande Te, grande Te… Grande Pe… Al centro! Silenziole, grazie. Esprita un pochino la finestra, giù in fondo, per favore. Vince un anime blu!